Massimo? Massimo? Sì? Ci siamo sentiti sull'app degli incredibili Sono Giacomo Ah, sei tu? Scusa, non avevi foto sul profilo e non ti ho riconosciuto No, scusa, hai ragione, io con questa nuova idea volerì non ci capisco niente Comunque gli devi dare un po' una pulita sta macchina Lo dico per te Comunque, vabbè, salgo? Ha il bagaglio? Se vuoi te lo metto dietro No, non ce l'ho Ok Prego Vieni